5 marzo 1696 nasce Giambattista Tiepolo, buon compleanno dal Museo Nazionale di Villa Pisani. Buon compleanno caro Giambattista dal Martin von Wagner Museum nella Residenz di Würzburg dove tu hai lasciato i tuoi capolavori che ancora ci fanno venire i brividi. Siamo ad Este nel Duomo Abbaziale di Santa Tecla, Santa Tecla che prega e intercede per la liberazione della peste della città di Este. Una meraviglia! Tanti auguri di buon compleanno caro Giambattista Tiepolo dallo Scallone della Residenz di Würzburg. Come sindaco di questa città vorrei congratularmi contene il nome di tutti i cittadini. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Jean-Baptista Tiepolo, aus dem Treppenhaus der Würzburger Residenz. Als Oberbürgermeister dieser Stadt möchte ich dir in ihrem Namen gratulieren. Invio i più sentiti auguri di buon compleanno al grande maestro Giovanni Battista che ha illustrato con la sua maestria il Nord Italia e l'Europa. Qui davanti alla sua tela il miracolo di Sant'Antonio nel Duomo di Mirano. Auguri Giambattista da cari Zonico e dalla tua Venezia. Oggi, 5 marzo 2021, festeggiamo il tuo compleanno, Jean-Baptista Tiepolo. A Udine hai lasciato capolavori fondamentali per apprezzare la tua pittura. Nel Museo di Cesano, in Duomo, presso la Chiesa della Purità, ma anche nei Musei Cittadini. Tutti in coro ti auguriamo buon compleanno! Dalla regia del sole, l'augurio di nuovo compleanno al dottore tutto spirito e fuoco. Tanti auguri, Jean-Baptista! Buon compleanno, maestro Tiepolo. Le invio le auguri dalla bella sala del capitolo della Scuola Grande dei Carni di Venezia, dove lei ha lavorato nel lontano 1749. Buongiorno, da Villa Valmarale Nani, ci troviamo sotto la fresca del sacrificio di Figenia, uno dei più importanti dipinti affrescati da Tiepolo nel 1757. E siamo grati al grandissimo pittore per la bellezza che ci ha lasciato e di cui noi godiamo tutti i giorni e così sarà per la generazione futura. Grazie! Tanti auguri, Jean-Baptista Tiepolo, grazie per aver fatto conoscere il territorio vicentino nel mondo. Le tue bellezze, le tue opere d'arte, le tue tele le stiamo valorizzando anche nei 250 anni dalla tua scomparsa. Quindi un anniversario che abbiamo voluto valorizzare anche come provincia e città di Vicenza. Mi chiamo Alessio Tiepolo e sono un probabile discendente di Jean-Baptista Tiepolo, al quale faccio gli auguri di buon compleanno, dalla sua villa di campagna a Zianigo di Mirano. Buon compleanno, Gian-Baptista Tiepolo!